Giappone-Croazia 1-0 diretta, il primo tempo. 16, 4745 più 2 finisce il primo tempo si chiude il primo tempo con il Giappone in vantaggio. Virgola. 16, 4343, gol del Giappone ma è dalla sblocca. Dopo azione di calcio d'angolo, segna il Giappone di rapina. Assist di Yoshida. Virgola. 16, 4040 Giappone molto pericoloso azione prolungata del Giappone, colpo di tacco di Kamada per Maeda. Che però alza troppo la mira e la palla finisce oltre la traversa. Virgola. 16, 2828 un brivido per il Giappone cross in aree nipponica da parte di Barisic e torre di Perisic. Non ci arriva il portiere Gonda, ma neanche Kramaric. Brivido per il Giappone. Virgola. 16, 1212 Giappone di nuovo minaccioso cross invitante da destra, ma Eda e Nagatomo non ci arrivano per un pelo. La Croazia si salva. Virgola. 16, 077 Perisic vicino al vantaggio brutto errore di Tomiyasu, Perisic da sinistra avanza solo verso il portiere che respinge. Poi Kramaric Cincischia in area di rigore, accerchiato dai difensori nipponici. Virgola. 16, 022 Giappone pericoloso di testa occasione subito per il Giappone, colpo di testa di Taniguchi. Esce di poco. I giapponesi sono partiti forte. Virgola. 16, 001 Comincia Giappone Croazia e è cominciata la gara degli ottavi di finale del mondiale in Qatar tra Giappone e Croazia. Virgola. 15, 32 Croazia, non c'è due senza tre. La Croazia si è qualificata agli ottavi di Coppa del Mondo per la terza volta e nelle due precedenti occasioni ha sempre superato il turno. Battendo 1-0 la Romania nel 1998 e la Danimarca ai rigori nel 2018. Virgola. 15, 2 Giappone Croazia, formazioni ufficiali, Brozovich e Tomiyasu in campo Giappone, 4, 5, 1, Gonda, Tomiyasu. Yoshida, Taniguchi, Nagatomo, Ito, Endo, Kamada, Murita, Don, Maeda. Al. Due punti Muriyasu. Croazia, 4, 3, 3, Livakovic, Juranovic, Lovren, Guardiol, Barisic, Modric. Brozovich, Kovacic, Kramaric, Petkovic, Perisic. Al, Dalic. Virgola. 14, 45 Giappone ammazza europei. Il Giappone ha vinto entrambe le sfide contro selezioni europee e mondiali 2022. 2-1 contro Spagna e Germania nella fase a Gironi. In precedenza aveva ottenuto solo due successi nelle prime dieci sfide ai mondiali contro formazioni europee. Con tre pareggi e cinque sconfitte. Virgola. 14, 30 Giappone Croazia. I nipponici vogliono continuare a stupire questo sarà il terzo confronto al mondiale tra Giappone e Croazia. Con gli asiatici che non hanno mai vinto né segnato nei due precedenti 0-1 nel 1998 e 0-0 nel 2006. Sempre nella fase a Gironi. Quelle sono state le uniche due partite della Croazia contro una selezione asiatica in Coppa del Mundo. Al Wacraliano Ob Stadium. 16, 47, 45 più 2 finisce il primo tempo si chiude il primo tempo con il Giappone in vantaggio. 16, 43, 43, gol del Giappone. Ma è dalla sblocca. Dopo azione di calcio d'angolo. Segna il Giappone di rapina. Assist di Yoshida. 16, 40, 40 Giappone. Molto pericoloso azione prolungata del Giappone. Colpo di tacco di Kamada per Maeda. Che però alza troppo la mira e la palla finisce oltre la traversa. 16, 28, 28. Un brivido per il Giappone. Croazia in aree nipponica da parte di Barisic e torre di Perisic. Non ci arriva il portiere Gonda, ma neanche Kramaric. Brivido per il Giappone. 16, 12, 12 Giappone. Di nuovo minaccioso cross invitante da destra, Maeda e Nagatomo non ci arrivano per un pelo. La Croazia si salva a 16, 7, 7 Perisic vicino al vantaggio brutto errore di Tomiyasu. Perisic da sinistra avanza solo verso il portiere che respinge, poi Kramaric cincisca in area di rigore. Accerchiato dai difensori nipponici 16, 2, 2 Giappone. Pericoloso di testa occasione subito per il Giappone, colpo di testa di Taniguki. Esce di poco. I giapponesi sono partiti forte. 16, 1 comincia Giappone-Croazia. È cominciata la gara degli ottavi di finale del mondiale in Qatar tra Giappone-Croazia. 15, 32 Croazia. Non c'è due senza tre. La Croazia si è qualificata agli ottavi di Coppa del Mondo per la terza volta e nelle due precedenti occasioni ha sempre superato il turno. Battendo 1-0 la Romania nel 1998 e la Danimarca ai rigori nel 2018, 15 e 2 Giappone-Croazia. Formazione ufficiali, Brozovic e Tomiyasu in campo Giappone, 4, 5, 1, Gonda, Tomiyasu, Yoshida, Taniguki, Nagatomo, Ito, Endo, Kamada, Murita, Don, Maeda, Al. 2 punti Moriasu. Croazia, 4, 3, 3, Livakovic, Juranovic, Lovren, Guardiol, Barisic, Modric. Brozovic, Kovacic, Kramaric, Petkovic, Perisic. Al, Dalic 14, 45 Giappone ammazza europee. Il Giappone ha vinto entrambe le sfide contro selezioni europee e mondiali 2022. 2-1 contro Spagna e Germania nella fase a Gironi. In precedenza aveva ottenuto solo due successi nelle prime dieci sfide ai mondiali contro formazioni europee. Con tre pareggi e cinque sconfitte 14 e 30 Giappone-Croazia, i nipponici vogliono continuare a stupire questo sarà il terzo confronto al mondiale tra Giappone e Croazia. Con gli asiatici che non hanno mai vinto né segnato nei due precedenti 0-1 nel 1998 e 0-0 nel 2006. Sempre nella fase a Gironi. Quelle sono state le uniche due partite della Croazia contro una selezione asiatica in Coppa del Mondo. Al Wacraliano Ob Stadium.